lunedì 27 agosto buongiorno e benvenuti come di consueto la rassegna stampa breve di video 33 informazioni per quanto riguarda i quotidiani locali e nazionali partiamo con la buona notizia del sole che tornerà a splendere e con temperature che ritorneranno estive lo vediamo subito con aiuto di max moro in regia dall'immagine dell'alba che ci arriva dalla zona di dobiaco appunto vediamo come il sole come il cielo sia serene come il sole stia per nascere appunto per illuminare tutto il nostro territorio chiediamo conferma nel merito agli uffici meteo di bolzano e di trento partiamo con quello di bolzano temperature in rialzo il capoluogo raggiungerà 27 gradi il sole praticamente splenderà per l'intera giornata su tutto il nostro territorio situazione fotocopia per quanto riguarda il trentino la colonnina del mercurio a trento farà registrare 25 gradi con il sole appunto che sarà presente per l'intera giornata e adesso adesso appuntamenti da non perdere vediamo cosa ci sarà in calendario per i prossimi giorni con l'aiuto sempre della grafica vediamo che il 31 di agosto a bolzano si giocherà la champions hockey league il bolzano giocherà contro lo scheletta il primo di settembre fino al 2 di settembre invece a san paolo ci sarà la festa del paese e poi il 2 di settembre per gli amanti dell'hockey su ghiaccio per una stagione che sicuramente sarà appassionante secondo appuntamento per la champions il bolzano giocherà sempre in casa contro l'elsinki ancora il 2 settembre invece parliamo ancora di feste siamo in val d'ultimo alla base della funivia della funivia schwem alm si sarà la festa dei kraffen e poi dal 7 all'8 settembre a merano la siebenferker october fest adesso andiamo a vedere quelli che sono le aperture appunto dei quotidiani partiamo con l'alto adige sanità ancora presente con l'ospedale emergenza specialisti appello dei primari dopo le dimissioni a senologia andiamo a vedere l'apertura dell'informazione del vicino trentino con il quotidiano l'adige val dei mochen insulti razzisti e minaccia aggredita agito ideo brutta negra ti uccido in apertura identica per quanto riguarda il quotidiano trentino minacce di morte perché nera agito la pastora etiope di frassi longo denuncia presa per il collo informazioni in lingua tedesca che oggi vede in edicole il quotidiano dolomiten apertura con la foto dedicata alla prima neve che è caduta ieri sull'alto adige e poi in alto troviamo i nuovi criteri per quanto riguarda la cantina lineburg affitto che andrà dagli 800 ai 1000 euro andiamo a vedere l'informazione nazionale e internazionale corriere della sera apertura dedicata ai migranti di maio frena salvini sui pubblici ministeri ma non viola il codice etico i primi passi dell'inchiesta sul viminale insieme al corriere della sera questo lunedì in edicole il corriere economia che ci racconta dalla francia 4 miliardi investiti sull'italia e per finire rimaniamo in tema di economia con il sole 24 ore che a pagina 2 e 3 ci fa un reportage per quanto riguarda il reddito degli italiani che non recupera gli anni di crisi e con questa notizia noi ci fermiamo qui per questa rassegna stampa breve a tutti voi naturalmente il migliore augurio di un sereno lunedì